Considerato una delle figure di spicco del teatro italiano. Vive e lavora tra Berlino e l'Italia. Studia recitazione presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino e la Bottega Teatrale di Firenze. Fondata da Vittorio Gasman. Come attore è diretto da Pipo Di Marca, Luca Ronconi, Giuseppe Patroni Griffi, Massimo Castri, Elio De Capitani, Walter Pagliaro, Tito Piscitelli, Vittorio Gasman. Per Rai 3, Dipartimento Scuola Educazione, è tra gli attori di lezioni di teatro scritto e condotto da Vittorio Gasman. 1989, ma è il lavoro di regista che gli conferisce fama nazionale e europea. Poco più che trentenne è chiamato a dirigere uno dei corsi dell'Ecole desme 3, Scuola itinerante internazionale, di perfezionamento teatrale, per giovani attori di diverse culture. In precedenza affidati ai più importanti maestri del teatro internazionale come Jacques, Del Cuvellerie, Luca Ronconi, Gersi Grotoschi, Anatoly Vassilievi, Jacques Vassalle, Giancarlo Cobelli, Peter Stein, Dario Fo, Emuntas Necrosius e Lef Dodin. Nel 2001 vince il suo primo premio UB per il progetto Shakespeare e oltre e, nel 2004, il premio Gasman come miglior artista dell'anno. Le sue messe in scene più significative sono, Otello di William Shakespeare, 1999, Romeo e Giulietta di William Shakespeare, 2000, I Negri di Jean Genette, 2002, Pilade di Pierre Paolo Pasolini. 2002, Querelle da Jean Genette, 2002, Porcile di Pierre Paolo Pasolini. Bestia da stile di Pierre Paolo Pasolini. 2004, Edoardo II di Christopher Marlowe. 2004, La cena delle ceneri di Giordano Bruno. 2005, Aspettando Godo di Samuel Beckett. 2007, In Francia, a Lione, nel 2004 debutta nella Regia d'Opera con l'Orfeo di Claudio Monteverdi. Sempre nel 2004 mette in scena Orfeo ed Euridice di Gluche. Nel 2005, Tosca di Giacomo Puccini. Nell'ottobre del 2007 porta sulle scene Moby Dick, tratto dal romanzo di Herman Melville. Una produzione del Teatro Stabile dell'Umbria nella quale il ruolo principale, il capitano Hachab, è affidato a Giorgio Albertazzi. In scena protagonisti anche Marco Foschi. Annibale Pavone e Fabio Pasquini. Questo non è il primo Moby Dick di La Tella poiché aveva già recitato nel 1992 in Ulisse e la Balena Bianca. Spettacolo ispirato al romanzo di Melville. Con la regia di Vittorio Gasman. Nel 2006 insegna al CAT di Perugia dove dirige un gruppo di giovani attori in un testo di Sara. Cane.